E' a e a e a e a e a e a a e a e a a e a Ma proprio ora? E' Lucia, proprio ti trattieni ok? Credo che Roberto sta perdendo il no, quindi silenzio Lucia, carissima, bene, grazie Ti ho detto di trattenerti Eh ma pure tu, così non fai utile Capito, fai qualcosa, pensa ai teori Lucia, non ha niente, dì Ah senti una cosa, ma poi Alberto e Simona, come è venita? Ci sono andati a letto Racconta Eh? 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 Ah? Ah? Eh? Ah? Eh? Oh? Ah? Ma che sei cretino? Eh 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 Buonanotte